La domanda è stata la moneta lombarda. Maroni si è inventato, questa per me ha il record nella imparata, l'idea di una moneta lombarda. Non esiste nessuna moneta lombarda. Che io ho battezzato il Marone. Esiste un progetto. Il Marone, il famoso Marone. Un'idea che viene già realizzata in molte parti d'Europa, in Francia e in Germania, di moneta complementare, non sostitutiva, complementare. Noi non abbiamo raccontato favole. Un'industria bologna rilancia la moneta complementare. Il Marone, il famoso Marone. L'industria bolognese, presente alla riunione il sindaco di Imola del PD. No, per dire l'ironia di Bersani, dovrebbe magari informarsi. Qual è lo scopo del progetto? C'è l'eridì in euro, non in Maroni, in euro. Ma sono certo che informati bene su questa vicenda, sia Berlusconi che Bersani direbbero di sì. Lo faccio.